Ciao ragazzi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento, quello del giovedì con il Listen & Translate, l'appuntamento durante il quale ci dedichiamo alla traduzione dei testi delle canzoni, in particolare quelle canzoni che più vi stanno a cuore e che potete continuare sempre a segnalarmi per la traduzione, indicandomene il titolo nei commenti al di sotto dei video di YouTube, in modo tale da poterle pubblicare nelle prossime settimane. Prima di tradurre il testo, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, ricordandovi di cliccare anche sul simbolo della campanella, che vi manterrà sempre aggiornati sulle prossime uscite video. E il brano che quest'oggi andiamo a tradurre è... Dance Monkey di Tones & I. Dance Monkey è il nuovo singolo della cantante australiana originaria di Melbourne, Tones & I, il cui vero nome è Tony Watson, ed è il secondo estratto dal suo primo album, The Kids Are Coming, pubblicato nell'agosto del 2019. Il singolo è stato certificato triplo disco di platino. Non capite quale sia il brano? Pensate di non conoscerlo? Ebbene, la voce alla radio, al supermercato, in palestra, che da giorni vi ripete il suo ritornello Move for me, move for me, move for me, hey, hey... Beh, quello ormai si è conficcato nella testa come una scheggia. Il brano infatti ha un mood molto allegro, scansonato, e sembra scritto per creare una melodia su cui potersi scatenare senza pensieri. Ma, come spiegato proprio dall'artista, la canzone in realtà parla delle aspettative che vengono poste sugli artisti, sui giovani talenti, dai produttori e dall'industria musicale in generale. Nel testo, infatti, Tony canta di come l'industria imponga agli artisti di continuare a produrre sempre grandi successi a scopo di loro. Dance Monkey, tradotto in italiano scimmia da ballo, che dà il titolo al brano, rappresenta proprio l'artista emergente preso come una sorta di animaletto ammaestrato che il pubblico ammira, adora, ma che in realtà è manovrato dai produttori, dall'industria discografica, che pretende che questi artisti soddisfino continuamente le loro richieste di creare nuovi successi e di esibirsi proprio per raggiungere il massimo guadagno. E quando l'artista non ce la farà più? Beh, passeranno al prossimo malcapitato. E procediamo quindi adesso con la traduzione del testo. Partiamo quindi con la prima strofa che ci dice They say, essi dicono, dove questo esti è proprio riferito al mondo discografico, al mondo dei produttori. Quindi loro dicono Oh my God, I see the way you shine. Oh mio Dio, io vedo il modo, la maniera in cui li splendi. Quindi soprattutto i primi versi vedremo che sono tutte quelle lusinghe che i produttori fanno nei confronti dei giovani artisti per, diciamo, invogliarli a firmare con loro dei contratti discografici che poi li vincolino in modo tale da poterli gestire in tutto e per tutto e farne carne da macello tra virurette cioè fonte di guadagno. Quindi loro ti dicono Oh mio Dio, vedo il modo in cui risplendi cioè riesco a vedere questo grande talento che è in te che quasi ti fa risplendere Take your hand, my dear and place them both in mine Prendi la tua mano, mio caro o mia cara and place e poni them, esse, both, entrambe in mine Quindi metti le tue mani, mio caro, nelle mie come dire affidati completamente a me Tu sai, you stopped me dead è un modo di dire, è una sorta di frase al verb che sta mi hai bloccato, morto cioè mi hai lasciato stecchito, mi hai lasciato senza fiato o sono rimasto impietrito while I was passing by nel mentre che ti passavo accanto cioè nel mentre che ti passavo accanto sottointeso nel mentre che tu ti stavi esibendo mi hai colpito così tanto la luce del tuo talento mi ha frizzato And now I beg to see you dance just one more time Ed ora I beg, il verbo to beg sta per supplicare e adesso ti prego, ti supplico di vederti danzare ancora una volta just one more time o I see you, see you, see you every time o ti vedo, vedo, vedo te ogni volta and oh my, I like, I like, I, I like your style è mio caro, oh my, sta per è mio caro mi piace il tuo stile quindi ancora una volta la lusinga sono molto interessato a te il tuo stile musicale, il tuo modo di porti come artista mi piace moltissimo You make me, make me, make me wanna cry Tu mi fai, 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 want to venire voglia di piangere cioè tu nel tuo esibirti con il tuo talento mi emozioni al punto da portarmi al pianto vedete le lusinghe And now I beg to see you dance just one more time l'abbiamo già visto prima e adesso ti supplico affinché possa vederti danzare ancora una volta so they say quindi essi dicono i produttori dance for me, dance for me, dance for me oh oh balla per me, balla per me, balla per me I've never seen anybody do the things you do before non ho mai visto anybody, nessuno fare le cose, the things che tu fai che prima di adesso, before grammaticalmente vediamo qui abbiamo I've never seen anybody I've seen è il present perfect lo capiamo dalla presenza dell'ausiliare have coniugato in funzione del soggetto seguito dal participio passato dal verbo che è to see, verbo irregolare il cui paradigma è to see, so, sin il participio passato sappiamo che nei tempi composti come in questo caso se c'è la presenza di un avverbio come qui never questo va sempre posto tra l'ausiliare e il participio passato del verbo poi abbiamo il composto di eni che è anybody, nessuno il termine nessuno sappiamo anche che possiamo tradurlo con nobody ma perché qui abbiamo la presenza dell'eni e non del no perché anybody si usa nelle frasi negative quindi dove c'è presenza di una negazione che può essere il not o come in questo caso un avverbio negativo che è il mai se questo mai non fosse stato presente nella frase al posto di anybody avremmo trovato nobody quindi I've seen nobody non ho visto nessuno quindi vedete che il senso rimane negativo quello che cambia è la struttura della frase they say e ancora loro dicono move for me, move for me, move for me e loro loro dicono quindi muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me and when you're done e when you are done e quando hai finito I'll forma contrata di I will quindi il tempo futuro I will make you do it te lo farò fare all tutto go again un'altra volta quindi e dopo che avrai finito di fare ciò che hai fatto te lo farò ripetere ancora un'altra volta ecco qui lo sfruttamento dell'artista trattarlo come una scimmia che balla e qui ricomincia invece un'altra strofa I said a rispondere è l'artista che dice io dissi oh my god I see you walking by oh mio dio ti ho visto passare da queste parti to walk by take my hands my dear and look me in my eyes prendi le mie mani mio caro e guardami negli occhi just like a monkey proprio come una scimmia I've been dancing forma contratta della ing form quindi del gerundio my whole life proprio come una scimmia ancora una volta il tempo è un present perfect io ho danzato per la mia intera per tutta la mia vita per tutta la mia esistenza ma but you just beg ma tu ancora beg to see me mi preghi mi supplichi al fine di potermi vedere danzare just one more time ancora una volta oh I see you see you see you every time oh ti vedo vedo te vedo te ogni volta and oh my e oh mio io apprezzo a me piace il tuo stile you you make me make me make me wanna cry sono le strofe pre di tornello che abbiamo visto prima quindi mi fai venire voglia di piangere and now I beg to see you dance just one more time e adesso ti prego ti supplico di poterti vedere danzare esibire ancora una volta e qui riparte ancora una volta il ritornello so they say dance for me dance for me dance for me quindi balla per me balla per me balla per me non ho mai visto nessuno fare le cose che tu fai prima di adesso loro dicono muoviti muoviti per me e quando avrai finito te lo farò rifare ancora una volta e la canzone va avanti così fino alla conclusione con la ripetizione di questo ritornello bene prima di concludere l'appuntamento di quest'oggi soffermiamoci su quelle frasi quei termini che possiamo estrarre dal testo della canzone possiamo memorizzare far nostri in modo da poter utilizzare nel nostro parlato in lingua quindi nel nostro vocabulary possiamo inserire i modi di dire you stopped me dead che sta per mi hai fermato il cuore mi hai lasciato paralizzato I like your style mi piace il tuo stile quindi mi piace il tuo modo di essere il tuo modo di fare il verbo to beg supplicare implorare just one more time ancora un'ultima volta e a whole life una vita intera bene e con questo è tutto io vi do appuntamento con il prossimo listen and translate a giovedì prossimo sempre a partire dalle 14 bye